con l'inverno è arrivato il momento del cambio di stagione per il tuo guardaroba e per le tue gomme per aiutarti a farlo al meglio abbiamo chiesto consiglio a due esperti di moda e di auto margaret dall'ospedale lifestyle e fashion blogger e lino garbellini giornalista con la passione per i motori vedi maghi il cambio gomme un po come il cambio armadio tu sei tipa da cambio armadio si pensa che addirittura me ne sono fatta fare tre a casa e una è proprio una cabina armadio dedicata solo alle scarpe l'elemento più importante di un outfit ecco in maniera simile l'elemento più importante per l'auto è il pneumatico il pneumatico come la scarpa dell'auto perché ti permette di avere contatto con il terreno perché ha fatto il cambio gomme per due motivi da un lato per legge in secondo luogo per un discorso di sicurezza dal 15 di novembre per legge si è costretta ad avere le gomme invernali su determinate strade o avere le catene al seguito e in secondo luogo per la sicurezza perché il raggio di frenata diminuisce con le gomme invernali ho capito quindi la gomma invernale non è quella che usi solo per andare in montagna o quando c'è la neve no non è come il piumino che metti solamente a sciare è una gomma che ti permette di avere maggiore sicurezza su ghiaccio neve e su asfalto bagnato quando la temperatura cala vedi maghi va bene il fashion ma oggi devi stare un po più ruota aspetta che poi ti sfido al look perfetto bravo lino ma ora vediamo come te la cavi con la moda allora lino abbiamo visto il cambio gomme ma tu come affronti un cambio armadio guarda maghi io non ho scheletri nell'armadio come paperino le camicie uguali a righe a quadretti ma tutte azzurre stessa cosa per i maglioni mi sai dare qualche suggerimento guarda in primo luogo devi farti delle domande come marzullo mi devo fare delle domande e darmi delle risposte più o meno ti devi chiedere se quel capo ti piace ancora se l'hai messo davvero l'ha indossato l'anno scorso e magari se è di tendenza quindi la tendenza è che devo buttare tutto il mio guardaroba ma no adesso ci guardiamo insieme ma nelle gomme c'è un look che va bene per tutte le stagioni sei carina oggi maghi bella la tuta hai visto seguo la tendenza di quest'anno di tendenza ascolta perché quattro stagioni tipo la pizza sì tipo la pizza per te che sei una tipa da città quattro stagioni in realtà è un pneumatico che si rivolge a chi viaggia prevalentemente in città vuole essere sicuro anche d'inverno fa meno di 10.000 chilometri l'anno non va in montagna e va poco anche in autostrada quindi io che proprio non ho voglia di fare questo benedetto cambio di gomme questa è la soluzione ideale ed è anche economica perché non vi mettete alla prova ciao maghi allora ricorda ordini a quattro stagioni o monti le gomme invernali in ogni caso sappi che la sicurezza non passa mai di moda va bene io ti do un piccolo consiglio leggi qualche giornale fashion in più va bene ciao grazie ciao se non hai ancora fatto il cambio gomme corri dal gommista